Che facciamo? Andiamo di sopra? Vieni. Noi due ci apparteniamo, Jones. Sei mia, sono tuo. Sogno la tua minigonna. Davvero? Se non ci riesco con te, non ci riuscirò mai con nessuno. Non è una proposta così allettante per me. Non sono disposta a mettere in gioco la mia vita per un uomo che... perché non è neanche così sicuro. Parafrasando quello che hai detto tu una volta, sto ancora cercando qualcuno più straordinario di te. Lo a più... Lo a più... Lo a più... Che va bene?